Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Prudenza per un trasporto eccezionale in A1 tra Firenze Nord e il bivio A1 variante Baccheraia in direzione Bologna. Sul raccordo sia una Firenze possibili disagi in entrambe le direzioni per scambi di carreggiata tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. Per un tempo l'aneo guasto agli impianti di circolazione ferroviaria nella stazione di Monte Rosso i treni sulla linea La Spezia Pisa potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Terminati in anticipo i lavori di rifacimento della fognatura in via Vecchia Pisana alla Strassigna. Da questo pomeriggio strada aperta regolarmente al traffico. Via del Ponte di Mezzo a Firenze è chiusa al traffico tra via Mariti e via Le Corsica. Morso in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!